Negli studi di TV City, Valeria Daniele, neoassessore della Giunta di Giovanni Palomba qui a Torre del Greco, come si appresta questo nuovo incarico? Volevo innanzitutto ringraziare il sindaco Palomba per questo incarico e i consiglieri, la signora Tabernacolo e D'Ambrosio per questo ruolo che mi hanno dato. Tra le sue deleghe, quella alle politiche sociali, un settore nevralgico in questa città? Arrivo in un momento particolare nel settore delle politiche sociali, che comunque sono impegnati alla conclusione dei contratti a valere per il Fondo Povertà. Devo dire che effettivamente è un incarico abbastanza oneroso. Cercherò comunque, per quanto possibile, di poter dare il mio personale contributo nella riuscita del piano di zona. In particolare mi impegnerò proprio nella conclusione della terza annualità del piano di zona, in particolare il punto 5 del PNRR, volto proprio all'inclusione sociale. So che il Comune comunque si è attivato per voucher ai nido, garantisce comunque assistenza essenziale. Ci sono centri per i disabili. Ma c'è ancora tanto da fare. Assolutamente, le dirò di più. Stiamo già lavorando per riattivare il concorso. Questa è la sua prima esperienza in politica? Assolutamente sì. La mia prima esperienza in politica, ma conosco molto bene la vostra Torre del Greco, anche perché ho lavorato per tanti anni in questa città, circa dieci anni, e quindi conosco un po' anche le persone. Sono veramente onorata di poter dare veramente il mio contributo a questa città. Oltre alle politiche sociali, quali sono le sue altre deleghe? Abbiamo l'informa giovani, abbiamo l'igiene e sanità, quindi c'è veramente, guardi, davvero tanto da fare. Sto cercando di capire un attimino tutte le cose che possiamo mettere in pista per svolgere al meglio questa... portare a termine tutte le nostre... le programmazioni che già sono state fatte e chiaramente gettare delle bassi per delle programmazioni future.